musica tanti like per capo bastone aga gaga attenzione warning il video che state per visionare contiene rivelazioni scioccanti riguardo falso j se hai un'età compresa tra i 3 e i 5 anni si consiglia la visione accompagnata da un adulto sano di mente ciao a tutti bambini come va spero tutto bene oggi in veste di papà castoro voglio raccontarvi una storia una storia molto interessante finalmente le vostre menti narcotizzate si stanno svegliando e iniziano a saltare fuori dei video un po particolari su falso j avrete sicuramente visto il video che ha creato kevin believe giusto se non l'avete visto vi riassumo brevemente il contenuto prima di vendersi il culo fa vj ha commissionato al papà di kevin believe la creazione di una app per cellulari creare una app ha sempre un costo sia di tempo che di denaro una volta venduto il suo culetto scheletrico al manager fa vj è sparito bloccando kevin believe da ogni social network ha provato inutilmente a ricontattare falso j ma non c'è stato niente da fare ma complimenti falso j commissioni un lavoro e poi fuggi via come un ladrone guadagni 20.000 euro al mese brutto bimbo minchia del cazzo e non vuoi nemmeno dargli 50 euro per il lavoro svolto ma complimenti ma oggi non voglio parlare di questo bensì voglio portarvi la mia esperienza con questo burattino dal culo spanato ora sedetevi in cerchio che vi racconto una bella storia falso j prima di diventare una macchina da soldi manovrata dal manager aveva aperto un canale insieme a due suoi amici chiamato teshard gaming le cose stavano andando molto bene per loro facevano video insieme e avevano il loro pubblico un'estate però falso j lascia il canale e ne apre uno tutto suo fuggendo come un leprotto la scusa di falso j era che gli altri due non si occupavano più del canale e quindi si era stufato ovviamente era solo una scusa per mettersi in proprio e probabilmente aveva già avuto dei contatti con qualcuno per organizzare la sua ascesa nel mondo dei pannolini un po come francesco sole e spazzatura varia ora la domanda sorge spontanea visto che sappiamo tutti che non avete litigato perché caro falso j non hai più né nominato né invitato i tuoi vecchi amici del canale per fare qualche video insieme perché non te li inculli più magari aiutarli a crescere a far conoscere al tuo pubblico di minorenni come è iniziato la tua carriera prima di dar via il culo guarda caso questo tuo atteggiamento ricorda esattamente quello con cui ti sei rapportato a kevin believe no ma tu no ora sei importante ora sei troppo impegnato a contare i soldi per poterti abbassare a considerare i tuoi vecchi amici vero sei proprio una merdaccia ti dovresti vergognare e visto che sei un coniglio di merda sarò io a ricordare i tuoi vecchi amici faccio quello che avresti dovuto fare tu in poche parole faccio vedere ai tuoi fans come tratti gli amici iniziamo con il povero nicky box nicky box ha trasformato il canale di shared gaming nel suo canale principale oggi si accontenta delle sue mille visual scarse a video in poche parole fa più visite il mio cane mentre piscia contro un albero avete capito bene ora invece parliamo di ai puffo ai puffo c'è rimasto così male che ha lasciato youtube per sempre probabilmente c'è rimasto talmente sotto che non ne vuole più sapere di questo mondo di falsi e venduti complimenti falso j complimenti vivissimi ma tanto lo sai benissimo che dopo il film dopo il libro e dopo l'album di figurine cadrai nel dimenticatoio io non sono come te io continuo a rimanere con i piedi per terra e i miei fans se ne sono accorti mentre tu conti i soldi io rispondo ai miei fans e mi basta un messaggio come questo per farmi andare avanti leggi leggi grazie capo di quello che fai per me in ogni tuo video sei come un padre per me da quando ho visto il tuo primo video grazie per non avermi mai abbandonato anche nei momenti più brutti vedi sono un ragazzo sfortunato non molto amato dai genitori e parenti non ho amici se non dei bulletti che mi sfruttano per avere alcuni soldini che mi dona mia nonna o il panino che mi faccio tutti i giorni quello che voglio dirti capo è che voglio più bene a te che a chiunque altro e che mi dai sostegno tutti i giorni stammi bene capo e buona fortuna ora caro falso j questo tipo di messaggi probabilmente arriveranno anche a te ma siccome hai la nutella sugli occhi nemmeno li leggi io invece rispondo pure guarda strunz grazie per le belle parole amico continua a seguirmi e vedrai quante robe ho in servo ti sono vicino e spero che i tuoi problemi si possano risolvere presto baffanculo ho anche disattivato la home di youtube perché non ne potevo più di vedere i tuoi video di merda in primo piano 24 ore su 24 e che cazzo va bene che paghi per essere sempre in home però guarda quest'arma di distruzione di massa questa non la puoi comprare tanti like per capo bassone aga gaga gaga ciao 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 ciao